la Macedonia a nord della Grecia si trovava una regione montuosa che all'epoca era però abbastanza coltivata inoltre era ricca di pascoli e di miniere i suoi abitanti erano di una stirpe affine ai greci anche se questi li consideravano dei quasi barbari non tanto per la diversità linguistica che era minima quanto per i loro costumi arcaici e arretrati inoltre la Macedonia era un paese isolato e non attraversato dalle correnti commerciali greche la società macedone assomigliava a quella della Grecia arcaica c'era una monarchia ereditaria i cui sovrani non avevano però un potere assoluto essi dovevano governare ascoltando il parere di un'aristocrazia guerriera di grossi proprietari terrieri esisteva inoltre una classe di piccoli proprietari indipendenti al tempo delle spedizioni persiane di Dario e Cerse i macedoni si erano piegati al pagamento di un tributo anche se un sovrano, Alessandro Filelleno che vuol dire amico dei greci aveva riconquistato l'indipendenza poco dopo la battaglia di Salamina altri sovrani avevano svolto una politica di sviluppo ed avevano ottenuto alcuni vantaggi territoriali durante le guerre del Peloponneso combattendo prevalentemente accanto a Sparta era pertanto aumentata l'assimilazione alla cultura greca e questo rese possibile la politica di un giovane re giunto al potere nel 358 avanti Cristo a soli 23 anni Filippo II Filippo durante l'egemonia di Tebe sulla Grecia mentre era ancora adolescente era stato inviato per tre anni come ostaggio in quella città si trattava di una misura abbastanza comune a quel tempo per essere sicuri che un paese rispettasse i trattati diplomatici i figli di alcuni membri della sua classe dirigente si dovevano trasferire come ostaggi nel paese più forte in questo modo, inoltre si sperava che venissero in parte assimilati alla sua cultura rimanendo fedeli anche dopo il rientro in patria Filippo però aveva un carattere troppo indipendente per assoggettarsi ma era abbastanza intelligente da assorbire tutto ciò che poteva essere utile A Tebe egli imparò le principali novità del metodo militare tebano il cosiddetto ordine obliquo inoltre si ese conto delle ostilità che separavano le polis greche Ritornato in patria e divenuto re decise di attuare delle riforme militari e di sfruttare le sue conoscenze per imporre leggemonia macedone sulla Grecia L'esercito fu riformato creando la Falange Macedone una fanteria armata di una lunga lancia detta Sarissa che poteva raggiungere i 7 metri molto più delle corte lance greche i soldati macedoni peraltro non avevano un grande scudo e solo una piccola spada essi venivano reclutati fra i contadini ed erano tutti originari della Macedonia il re li chiamava i compagni a piedi cioè i peseteri sottolineando il legame quasi personale che aveva con loro durante le battaglie avanzavano in formazione rettangolare puntando le lance verso il nemico che non era neanche in grado di utilizzare le proprie armi troppo corte l'unico rischio della Falange era la protezione dei fianchi pertanto Filippo organizzò una potente cavalleria fortemente corazzata e formata dai suoi nobili detti i compagni a cavallo incaricandola di difendere i lati scoperti della fanteria ed effettuare le operazioni di sfondamento Filippo non divenne un sovrano assoluto pur avendo un carattere molto forte continuò ad ascoltare il parere delle assemblee dell'aristocrazia e dei contadini la fedeltà dei militari venne ulteriormente cementata dalle concessioni di terra che seguivano ogni vittoria dotatosi di questo potente strumento militare Filippo iniziò la sua politica espansionista non dimenticandosi di fare affidamento anche sulla diplomazia e sugli intrighi prima si espanse a danno dei vicini del nord più deboli e arretrati della Macedonia i tracci di Illiri e di Epirotici poi si rivolse verso la Grecia i primi a subire la sua politica espansionista furono gli Atenesi ad Atene un politico assai abile come il ratore Demostrene si rese conto di quanto fosse pericoloso e con una serie di discorsi detti filippiche si rivolse a tutta la Grecia perché si unisse contro il sovrano macedone dopo cinque anni Atene e Tebe riunite affrontarono a Cheronea la falange macedone subendo una sanguinosa sconfitta al combattimento partecipò anche il giovane principe ereditario Alessandro aveva 18 anni come comandante della cavalleria Filippo sfruttò abilmente la vittoria senza assumere atteggiamenti autoritari e illiberali convocò a Corinto un'assemblea di tutte le polis greche solo Sparta non volle aderire in questo congresso garantì i confini delle città greche e il rispetto del loro ordinamento interno i greci si riunirono in una nuova lega panellenica cioè di tutti i greci e affidarono il comando delle forze armate comuni a Filippo che dichiarò guerra alla Persia però mentre l'avanguardia attraversava l'Ellesponto cioè Dardanelli Filippo cadeva assassinato nel 336 a.C. di l'Ellesponto di l'Ellesponto di l'Ellesponto di